17 anni, in tasca un diploma per commidi, sala e bar, le Physique du Role e il sogno di aprire un locale tutto suo. Il giovane barman ligure Matteo Calcagno all'Istituto Alberghiero Miretti di Varazze è una star, ha vinto infatti il concorso regionale AIBES per la categoria Aspiranti Barman. Ovviamente questa è ancora una scuola che appartiene a questa categoria delle scuole professionali, che dà ancora una possibilità, una speranza ai ragazzi che scelgono di fare questo percorso, perché secondo il mio punto di vista, e poi comunque è un dato certo, i ragazzi che intraprendono questo percorso hanno l'obbligo, già dal secondo anno, di andare a fare un'esperienza lavorativa, uno stage in azienda. E quindi già loro a 16 anni, 15-16 anni, hanno già la possibilità di confrontarsi con il mondo del lavoro. Trovano degli insegnanti come me e i miei colleghi che lavorano d'inverno e fanno un percorso scolastico, quindi cercano di dare suggerimenti, diciamo, le dritte opportune per il lavoro. Noi abbiamo sempre comunque il termometro del lavoro, quindi sappiamo, a parte professionalmente, sappiamo della bevanda, della novità, della tecnica di servizio, perché siamo comunque nel quotidiano, lavoriamo nel quotidiano e lavoriamo sulla nostra pelle. E quindi abbiamo la possibilità e la fortuna, loro dico, ve l'ho sempre detto, che hanno la fortuna di avere degli insegnanti che fanno, gli insegnanti d'inverno e i lavoratori d'estate. Sono Matteo Calcagno, ho fatto il triennale qua da Berghiero di Varazze, tipo dopo il triennale, il mio prof di Barbova mi ha detto se avevo il piacere di fare i corsi da barista, perché mi vedeva che ero bravo e avevo la passione, allora ho fatto sto corso. Sono passato, poi abbiamo dato il secondo corso, è un corso, è un esame per entrare nell'associazione, siamo entrati tutti quelli del corso come aspiranti e il 26 febbraio abbiamo fatto la gara a Rimini, il concorso interregionale, che sono arrivato primo classificato, adesso poi avrò i nazionali. Si, ho inventato un cocktail che si chiama Grinch, tipo mi è venuto così sul momento, subito pensando una cosa semplice, banale che potessero fare tutti. Grazie. 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 Io ho fatto esattamente quello che le sto dicendo, la scuola alberghiera, il sogno di Matteo era il sogno un po' di noi che credevamo e crediamo, quando si sceglie di fare questo percorso, il mio sogno nel cassetto era quello, mi ricordo ancora, di non essere comandato da nessuno, perché non volevo essere comandato, un po' per presunzione, un po' per carattere, un po' non lo so, e tanto è vero che io ho finito la scuola alberghiera, sono andato a fare le mie esperienze lavorative, mi ricordo che facevo le stagioni invernali sui montani a Courmayeur in Val d'Aosta e poi facevo le stagioni estive a Finale, a Lascio e quant'altro. Io finivo di lavorare ad aprile e fino a maggio non incominciavo a lavorare, perché la stagione qua mi chiamavano poi trovavo un impiego dal primo di giugno e quindi mi trovavo a casa 40-45 giorni in ferie con qualche soldino perché comunque non dimentichiamoci una cosa importante, che questo mestiere qua ti permette già a un'età giovane come loro di guadagnare qualche bel po' di stipendio. Poi ci sono dei corsi, dei corsi a entrare in associazione, come quella che io rappresento, l'Associazione Italiana Barman Sostenitori, si monitora poi comunque il livello qualitativo di ogni barman, perché nessun barman si deve, si deve ritenersi arrivato. Quando ci riteniamo di essere arrivati dobbiamo andare in pensione. La passione, essere sempre incuriositi, andare alla ricerca. Adesso abbiamo la possibilità che con un tasto, con un clic si si aprono tutto il mondo, quindi l'altro giorno siamo andati con Matteo a vedere un master di bartender giapponesi e tutte le parole che non sapevo, che non conoscevo eccetera eccetera, il giorno dopo, se non la sera stessa, sono arrivato a casa e mi sono messo a lavorare dal computer fino all'una di notte, perché è una passione, è la passione. E poi le spiegavo la mia carriera, finito di fare queste diciamo le esperienze stagionali, ho deciso di prendere un locale per il conto mio. E poi in combinazione sono riuscito a entrare nel circuito scolastico e sto cercando di insegnare oppure di fare intraprendere il mio percorso, la mia carriera ai ragazzi che fanno questo percorso. Grazie.